Benvenuti ragazzi, questa qui è il mio nuovo acquisto di bonsai, è un fagus serbatica, per chi non la conoscesse, è un faggio, è una bellissima pianta, un bellissimo bonsai, che ha l'età di 14 anni, e adesso siamo in un periodo invernale, quindi come vedete ci sono le gemme, e quindi aspetteremo che sbocchino in quella vera, l'ho comprato dal nuovo serista di fiducia, ovvero del back bonsai a Torino, e come vedete qui c'è anche un piccolo figliolo del bonsai che è venuto su, che tra tre anni devo cambiare di vaso a questo bonsai, e quindi cercherò di farvele qualcosa con quel piccolo faggio, e quindi potrebbe essere tutto, è una pianta da esterno, ovviamente, a manzone, e ragazzi io vi invito a iscrivervi al canale, a condividere i video, a commentare, e lasciate tanti like, per un altro video sui bonsai, da un piccolo paradiso, da un piccolo angolo di paradiso è tutto, ci vediamo in un prossimo video.